finalmente siamo tornati a camminare tra le nostre vie italiane nelle nostre piazze ed è straordinario una grande soddisfazione dopo settimane di chiusura in casa per combattere il contagio non tutto si può ancora fare però ci sono delle cose che sono nel dna del movimento 5 stelle che sono le piazze e gli assembramenti e quindi le agora che non si possono ancora fare per questo siccome abbiamo tante cose da raccontarvi e siccome vogliamo girare l'italia per stare in mezzo a voi per stare con voi per ascoltarvi e per rispondere alle vostre domande partiamo con un tour un giro d'italia virtuale che girerà tutte le regioni d'italia tutti i lunedì e tutti i venerdì dove ci saranno portavoce nazionali europei portavoce regionali sindaci del movimento 5 stelle perché lo facciamo perché in questi mesi abbiamo lavorato tantissimo abbiamo lavorato giorno e notte abbiamo ottenuto l'approvazione di tanti decreti dal decreto curitalia decreto scuola decreto rilancio dal decreto liquidità avete per caso sentito la spiegazione delle decine di norme che sono presenti all'interno di questi decreti le tv non ve lo stanno raccontando sembra che non ci sia che non sia stato fatto niente sembra che questo governo non sia da parte dei cittadini invece invece stiamo lavorando stiamo lavorando tantissimo siamo in mezzo cittadini stiamo lavorando solo ed esclusivamente per i cittadini e siccome non possiamo tornare in piazza anche se vorremmo tanto lo faremo virtualmente in piazze virtuali in un giro d'italia virtuale e venite partecipate siate con noi potete fare le vostre domande potete inviarci dei video potete essere protagonisti del racconto di quello che sta avvenendo in parlamento con cittadini che non vi stanno rubando né soldi né diritti ma che non vi stanno fregando ma che stanno lavorando per voi facendo tantissime cose il della cassa integrazione del bonus per i babysitter a tutte quelle che sono le quali iniziative che oggi hanno tenuto il paese in sicurezza l'inassenza di tensioni sociali ma vi vanno raccontate perché tutti o la maggior parte di miglia non lo stanno facendo statici vicini tutti lunedì e i venerdì sera insieme portavoce del movimento 5 stelle nazionali europei e gli attivisti del movimento e tanti cittadini diffondete partecipate lunedì e venerdì sera da qui fino ad agosto un giro d'italia virtuale per raccontarvi cosa stiamo facendo in parlamento e gli aiuti che vi stiamo dando diffonde queste notizie diventa protagonista del tour riparte l'italia grazie a tutti grazie a tutti